Napoli, centro delle bellezze urbanistiche ed architettoniche, diventa protagonista della quinta edizione di Open House, il festival globale dell'architettura che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre proprio qui nella nostra città. A raccontarci le novità per l'anno 2023 abbiamo con noi stamattina il direttore di Open House Napoli, Stefano Fedele. Buongiorno. Buongiorno. Iniziamo questo viaggio verso l'armonia, citando anche qualche numero. 150 esperienze, 40 novità, 300 volontari per la prima volta tutti insieme in un unico weekend. Diversi spazi a Napoli dedicati a questa Kermess. In che modo le municipalità di Napoli saranno protagoniste della vostra attività, del vostro festival? Questa è una caratteristica tipica del nostro festival, cioè l'idea di riuscire a offrire un ritratto complessivo della città, quindi comprendendo sempre tutte le municipalità, quindi superando anche la tradizionale distinzione tra centro e periferia e quindi raccontando le trasformazioni della città in tutti i luoghi, anche perché poi spesso alcune delle trasformazioni più importanti avvengono proprio nelle periferie. In questo senso, tra l'altro, questa quinta edizione sarà anche la prima a superare poi la soglia della città metropolitana, perché noi andremo sino, grazie a una collaborazione con l'Università della Regione Campania a Van Vitelli, quindi andremo fuori della città metropolitana e visiteremo anche San Leucio e anche l'abbazia di San Lorenzo ad Aversa, dove c'è una sede appunto della Facoltà di Architettura e Disegno Industriale, quindi il nostro obiettivo è offrire sempre un ritratto della complessità della città e della sua vastità, sia sotto il profilo appunto spaziale, ma naturalmente poi anche sotto il profilo cronologico, cioè della grande ricchezza storica del patrimonio storico architettonico della città. Quindi non solo il centro della città sotto i riflettori, ma anche la periferia, questo è veramente importantissimo per raccontare ai visitatori e ai curiosi ciò che c'è al di là del comune, quello conosciuto di Napoli. Naturalmente, questo è poi una delle vocazioni fondamentali dell'evento. A me piace sempre dire che Open House è anche un piccolo esercizio di cittadinanza, nel senso che aiuta i cittadini, naturalmente i visitatori sono di ogni tipo, ma c'è una forte presenza ovviamente di cittadini napoletani, quindi li aiuta a scoprire molti luoghi o anche a riscoprire talvolta dei luoghi che vengono attraversati ma mai realmente conosciuti e questo è un esercizio di consapevolezza, cioè di riappropriazione dei luoghi e della propria identità sostanzialmente, perché l'architettura naturalmente è molto più che pietre ed edifici, cioè sono gli spazi della nostra vita, quindi sono assolutamente la carne della città. Napoli è un innesto perfetto di stili architettonici e di estro urbanistico. Secondo lei, quali saranno i luoghi che incuriosiranno di più i nostri ospiti e quali siti inediti andranno ad essere toccati di più dai nostri cittadini? Io penso, allora, parto dal, mi piace partire dal futuro, diciamo, della città, quindi il racconto mostra passato, presente e futuro di questa identità così stratificata attraverso i millenni. Quindi io partirei dal futuro e partirei per esempio da qualcosa di assolutamente inedito che è per la prima volta l'apertura del cantiere, perché questa è un'altra caratteristica naturalmente del nostro evento, il cantiere della metropolitana della stazione dell'Arco Mirelli progettata da Hans Koloff con le opere di Rebecca Horn o anche, sempre restando sulla linea 6, un altro cantiere che è quello di San Pasquale a Chiaia, quindi progettato da Monte di Dio, progettato, chiedo scusa, quello di Monte di Dio, progettato da Uberto Siola con le opere del regista cinematografico e artista visuale Peter Greenaway. Questi appunto sono dei luoghi, tra l'altro, estremamente caratterizzanti perché certamente negli ultimi vent'anni l'elemento più forte di contemporaneo che ha caratterizzato la città è sicuramente rappresentato dalla mobilità, dal grande progetto delle stazioni dell'arte che costituiscono appunto un caso internazionale studiatissimo, che sono diventati anche un enorme attrattore turistico, però il futuro è anche nei luoghi storici, per esempio l'albergo dei poveri che sicuramente sarà un luogo molto visitato, uno spazio storico della città del Settecento ma in sostanza per lungo tempo negato, ma adesso al centro di un deciso processo di trasformazione, ci sono anche dei fondi del PNRR e quindi anche quello è uno spazio che tra poco diventerà di nuovo è uno spazio vissuto, uno spazio restituito ai cittadini e quindi sia storico ma anche nuovo anche diciamo declinato al futuro. Avete pensato veramente a tutte le fasce d'età, anche i bambini potranno essere protagonisti di Open House Napoli con iniziative pensate apposta per loro? Sì, ci sono dei laboratori, questa è una cosa che noi abbiamo capito alla prima edizione che non presentava appunto questa sezione dedicata ai kids, la necessità di arricchire il racconto attraverso ovviamente dei laboratori, quindi dei momenti di natura più esperienziali al centro dei quali però c'è sempre l'idea del racconto dell'architettura, quindi una forma partecipata ed esperienziale che consente anche ai più piccoli di capire i valori e il significato e la centralità assoluta dell'architettura per la vita quotidiana. E poi ci sarà spazio per il dibattito e per il confronto, dove saranno coinvolte due prestigiosi università la Federico II e Van Vitelli. Quali temi saranno quelli che in particolare affronterete e come sarà possibile anche prendervi parte? Assolutamente, per quanto riguarda prendere parte alla manifestazione è semplicissimo, noi abbiamo una parte di siti, di luoghi su prenotazione, anzi le prenotazioni tra l'altro si apriranno proprio oggi alle ore 19, quindi basta andare sul nostro sito openhousenapoli.org registrarsi e poi prenotarsi ovviamente per i luoghi di proprio interesse. Ma la grande maggioranza dei luoghi sono invece, e anche degli eventi, dei dibattiti, sono assolutamente liberi, quindi basta presentarsi e quindi si può tranquillamente partecipare e visionare tutti i luoghi che più interessano. In particolare sottolineerei appunto sotto il profilo del dibattito quello che poi sarà l'evento di apertura, il venerdì, quest'anno tra l'altro è la prima volta diciamo per il quinto anno abbiamo pensato di aggiungere una terza giornata, non più solo sabato e domenica, ma anche il venerdì con visite e anche momenti di approfondimento, quindi di dialogo. Ci sarà questo talk alla sede del DIARC, quindi del Dipartimento di Architettura della Federico II, su un tema molto rilevante che è quello degli usi transitori, cioè una differente idea di uso degli spazi che non è legata alla progettualità del lungo periodo. Noi purtroppo abbiamo proprio una città come Napoli, degli esempi di storico immobilismo, pensiamo solo a Bagnoli. Ecco, l'uso transitorio immagina appunto una possibilità di uso più leggero e temporaneo dei luoghi che è una forma di restituzione dello spazio ai cittadini e quindi di riempire questi spazi restati vuoti per decenni e ridonarli immediatamente alla città, anche con la possibilità appunto di immaginare degli usi che cambiano nel tempo e che quindi sono particolarmente rispondenti alle esigenze dei cittadini che cambiano. Un programma fitto e variegato, il vostro, la valorizzazione appunto di risorse e di strumenti come anche l'Ecomuseo Urbano Diffuso. Di che cosa si tratta? Sì, l'Ecomuseo Urbano Diffuso è un progetto molto interessante che riguarda Napoli Nord e appunto è proprio questo, è una visita variegata che copre il territorio di Napoli Nord, è un progetto interessante perché sarà possibile sia visitare alcune delle stazioni, ad esempio la storica stazione di Piscinola con le opere di Felice Pignataro, ci sarà direttamente Mirella Pignataro a raccontarla, sia poi altri luoghi ed altri spazi del territorio. Quindi riuscendo a capire che ecco questo concetto di museo è molto più articolato ed è soprattutto aperto, è un racconto dell'identità dei luoghi. Una nota positiva, a firmare le immagini della campagna della quinta edizione di Open House Napoli abbiamo l'illustratice e designer Giulia Serafin, veneta ma comunque con un forte legame con la nostra città. Come quando si sviluppa questa collaborazione e come si sposa poi la città alla sua creatività? Sì, a noi piace molto quest'idea che oramai perseguiamo da diversi anni di trovare sempre un illustratore, illustratrice che scelga di raccontare a modo suo la città quindi mettendo lui o lei al centro della campagna di comunicazione. Quindi facciamo anche una ricerca noi proprio, cioè chi ci interessa di più, chi ci stimola, chi ci attrae. Quest'anno abbiamo incrociato Giulia Serafin nelle nostre ricerche scoprendo poi appunto che ha un forte legame con la città per ragioni di tipo sentimentale e quindi lei ha raccontato la città in un modo che a noi è piaciuto molto e che devo dire sta riscuotendo anche molto apprezzamento in generale perché è una chiave su cui noi siamo sempre molto attenti e che a noi interessa molto cioè quella di immaginare le architetture come qualcosa di vivo non semplicemente i luoghi e le pietre ma appunto come dicevo prima la carne per cui le architetture qui divengono una sorta di giganti gentili che quindi sono insieme architettura ma anche figura umana e hanno un che di immaginifico, un che di fiabesco ma alla fine individuano perfettamente uno dei caratteri appunto dell'architettura come cosa viva, come pezzo della nostra esistenza, come pezzo della nostra carne. Ma quando e come è nata l'idea di realizzare Open House e come mai questa chermessa a Napoli ha un valore simbolico di un certo tipo? Beh l'idea è nata appunto 5-6 anni fa. Open House in realtà è un evento internazionale, è nato a Londra nel 1992 quindi noi sulla base di precedenti esempi anche italiani perché non voglio dimenticare che Open House prima che a Napoli è giunto a Roma, a Milano e a Torino tra l'altro altre tre città con cui noi abbiamo una strettissima collaborazione quindi anche come Open House Italia, come organismo complessivo ebbene guardando quegli esempi che sono arrivati prima di noi ci siamo semplicemente il gruppo dei proponenti guardati in faccia dicendoci che non era possibile che a Napoli non ci fosse un evento come Open House e quindi si è trattato semplicemente di entrare in contatto con l'organizzazione proprietaria anche del format appunto questa associazione londinese e abbiamo presentato un progetto e quindi poi Open House è arrivata qui. In conclusione quali saranno le vostre aspettative per questa imminente edizione che vedrà protagonista Napoli dal 20 al 22 ottobre? Noi speriamo semplicemente, naturalmente da un lato c'è sempre l'attenzione al successo in termini di numeri, di partecipazione noi oramai gravitiamo normalmente intorno a 20.000 visite della Kermess nel weekend da un lato c'è questo, da un lato c'è la quantità dall'altro c'è la nostra aspirazione ovviamente di offrire la qualità della città e quindi un ritratto che sia coerente e che poi dai cittadini arrivi il feedback dai visitatori arrivi il feedback dell'interesse anche in una continua raccolta di proposte e di suggestioni che vengono poi anche da loro quindi l'apertura del dialogo e anche della continua costruzione della rete sul territorio perché naturalmente questo è un altro aspetto irrinunciabile Regione Campania, Comune di Napoli, ANM, EAV, le università che prima citavo l'Ordine degli Architetti, la Fondazione Ordine degli Architetti, eccetera e naturalmente la fortissima necessaria e indispensabile noi lo sottolineiamo sempre, la presenza dei volontari essendo un evento completamente gratuito senza i volontari che fanno da guide sarebbe impossibile realizzarlo e quindi questo è il senso anche comunitario ecco, di un evento di questo genere Allora ricordiamolo dal 20 al 22 ottobre il Festival Globale dell'Architettura Open House ringraziamo Stefano Pedere per essere stato con noi stamattina e noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità con Mattina Live Grazie